A 24 giorni dall'inizio del campionato, quello che l'Avellino sta accumulando è un ritardo da Codice Rosso. A preoccupare di più è il fatto che slitta continuamente l'inizio della stagione agonistica, il primo vero allenamento da tenersi al Partenio Lombardi, da mercoledì a venerdì, adesso addirittura si pensa a lunedì. Del resto le difficoltà che sta incontrando Salvatore Di Somma per operare sono tantissime, in alcuni casi persino insormontabili. La fotografia la conoscete, quella che l'Avellino non può spendere, non può depositare contratti che vadano oltre il milione di euro l'ordo. Per fare questo la prima cosa a cui ha pensato Salvatore Di Somma è quella di bussare alla porta di squadre di Serie A per ottenere sei prestiti di qualità. Chiaramente chi dovrà pagare gli ingaggi di questi calciatori, nella maggior parte dei casi, sono proprio queste società. Per il resto non si possono fare biennali e questo è un altro ostacolo davvero difficile da superare. Nella maggior parte dei casi vengono proposti dei contratti al minimo stipendio che non vi scandalizzate ma forse qualche società di eccellenza irpina in questo momento riesce addirittura ad offrire di più. Come si fa ad uscire da questa situazione? Beh come sta facendo Salvatore Di Somma rimboccandosi le maniche, non scoraggiandosi ma soprattutto cercando di essere operativo e portare avanti un programma. Per questo motivo dico non perdiamo più tempo, cerchiamo di non esitare più e lo dico a chi della società è qui ad Avellino e a cuore le sorti del club. Perché per poter operare c'è bisogno di mettere soldi adesso in cascina, c'è bisogno di portare sponsor, c'è bisogno di avviare la campagna abbonamenti, c'è bisogno di fare partite attraverso i biglietti venduti, fare anche qui soldi, liquidità. Ebbene se non si parte mai si potrà sperare di ottenere qualcosa in maniera provocatoria, ieri avevamo detto siamo pronti a farci l'abbonamento, a farvi lo spot, lo siamo, siamo davvero pronti ma se non partite come facciamo?